Mistretta risponde presente alla raccolta sangue promossa dall'Avis locale e questa mattina sono stati di nuovo tanti donatori che si sono presentati presso la sede di via Cairoli per dare il proprio contributo in un momento di vera emergenza in tutta la Sicilia. Infatti c'è una vera e propria carenza che è indirettamente dovuta all'allarme coronavirus, poiché molti donatori non si sono regati in ospedale o nei centri di donazione per paura del contagio. I numeri di Mistretta però sono importanti e si può dire che l'Avis locale è una voce fuori dal coro per la presenza dei tanti donatori pronti a dare il proprio contributo. Sempre Mistretta ha un cuore grande i donatori, oggi avevamo organizzato per la festa della donna anche se l'abbiamo anticipato di un giorno, infatti il manifesto è donare donna, ma stanno rispondendo bene perché effettivamente siamo in emergenza con il problema coronavirus, gli ospedali del nord sono intasati, le donazioni sono diminuiti del 50% e quindi ci dice il centro trasfusionale sangue e in particolare il dottore Crisà che non c'è negli ospedali non c'è una sacca di sangue, quindi l'appello va rivolto a tutti, noi siamo disponibili a organizzare anche delle raccolte straordinarie, anche successivamente alla data odierna, prendendo anche delle prenotazioni, invitiamo tutti a donare sia i donatori e sia chi non l'ha fatto. Il momento è veramente drammatico, ci dicono di trasmettere questo messaggio alla popolazione, quindi chi è in grado di donare, quindi dai 18 ai 60 anni, chi non ha mai donato, di avvicinarsi all'Aves, di contattarci, daremo anche il numero di telefono, chi è disponibile, noi siamo disponibili anche ad organizzare altri eventi, anche ci hanno detto pomeridiane, quindi non si è mai fatto una donazione di pomeriggio, ci hanno dato le istruzioni come fare le donazioni di pomeriggio, quindi siamo veramente in un momento difficile per l'Italia in cui ognuno di noi può fare la propria parte. La raccolta di sangue di oggi è stata organizzata la vigilia della festa della donna e in occasione di questa ricorrenza i membri dell'Avis hanno donato un mazzetto di mimosa e un piccolo pensiero a ogni donatrice presente.